Bene cari amici, ben ritrovati come di consueto sul mio canale, appuntamento per quanto riguarda l'analisi e estrazione di sabato 28 maggio e notiamo per quanto riguarda questo quadro estrazionale che è un quadro estrazionale che ci dà ottime indicazioni per quanto riguarda già il mese di giugno, per quanto riguarda questo 90 che arriverà molto molto forte, guardate già avevamo visto la scorsa estrazione, la somma 90 tra le ruote di Bari Cagliari, avevamo visto l'1 su Cagliari, l'88 su Cagliari, grandi segnalatori e questa estrazione cosa succede? notate questo triangolo di cadenza 9 sulle ruote di Bari Cagliari, quarta e quinta posizione 79, 59, 29 e il 59, guardate lo ritroviamo nell'estrazione precedente sulla ruota di Cagliari con il 79, questi due elementi si vanno a ripetere isotopi Bari Cagliari nell'estrazione successiva con il 29, quindi attenzione perché qui sta arrivando una bomba, molta attenzione, sapete benissimo che vi ho presentato il metodo SPIA 58 che porta il 90 a Bari, sapete benissimo che abbiamo lo speciale 90 a Bari Cagliari e Cagliari-Firenze ancora in gioco e che Cagliari è la ruota che converge, quindi Cagliari rimane una ruota spettacolare, quindi sia Cagliari sia la ruota di Bari, andiamo a vedere ancora, qui abbiamo per quanto riguarda altri segnali guardate Cagliari-Firenze 30-60, somma 90 tra le ruote di Cagliari-Firenze in prima posizione ma abbiamo un triangolo di cadenza 0 e qui arriva il 90, quindi abbiamo due triangoli qui la cadenza 9 Bari-Cagliari, qui cadenza 0 Cagliari-Firenze, queste sono due formazioni veramente incredibili, quindi mi raccomando perché chi ha in mano i miei speciali 90 sono fortissimi, intanto Firenze porta la figura 9 54 in terza posizione e notiamo anche cosa succede sulla ruota di Genova, guardate la mia SPI 84 dice sì al 90, quindi 90 Genova-Torino perché si gioca anche sulla diametrale, su Torino abbiamo una doppia distanza 2, 86-88, quindi grande segnale del 90, sapete che la SPI 84 è pazzesca e sapete benissimo che abbiamo la bomba 90 tra le ruote di Firenze-Genova, quindi molta attenzione, cosa ci dice anche la ruota di Milano, guardate c'è il 9, grande segnale del 90, c'è la somma 90, 80 e 10 e ci sono tre zerati sulla ruota di Milano, 80, 10 e 20, questi tre zerati porteranno il 90, quindi molta attenzione, cosa abbiamo sulla ruota anche di Napoli, la doppia cadenza 2, 2, 42 e tripla cadenza 2, anche questo un ottimo segnale, triangolo di cadenza 2, ruote di Napoli-Palermo, 2, 42, 72, guardate che quadro estrazionale è questo, ci dà dei segnali chiarissimi per un 90 che arriverà a cascata in grande frequenza, farà il macello su un sacco di ruote, quindi attenzione a seguirmi con gli speciali 90 e con i 90 bombe che abbiamo in gioco perché li andiamo a vincere tutti quanti, attenzione, Torino ve l'ho fatto anche vedere, nazionale potrebbe portare la ripetizione del 90 in virtù di quel 5, ma gli segnali più importanti sono proprio questi, tra le ruote di Geno-Milano-Napoli, Bari-Cagliari-Firenze, quindi sapete benissimo che sono delle previsioni che noi abbiamo, speciali 90, ruote superiori, Bari-Cagliari-Firenze veramente interessanti, abbiamo ancora un Milano-Napoli e un Firenze-Genoma con la bomba 90, quindi ne vedremo sicuramente delle belle, quindi mi raccomando a non perdere l'occasione di giocare i miei 90 che sono caldissimi, queste sono un po' le situazioni più calde, i segnali più belli, più importanti, direi che non c'è altro da dire, quindi per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.